Eccoti, benvenuto! Ti accompagnerò in questo viaggio di apprendimento e di implementazione dei risultati. Questo percorso è infatti focalizzato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. Questo è un video 360, mi puoi seguire con il mouse o semplicemente cliccando sullo schermo. Andiamo! Questa mia collega ha già ottenuto la certificazione, quindi ha terminato il suo viaggio ed è un momento molto importante perché significa che ha trasferito le competenze acquisite nel suo lavoro quotidiano e ora può darci l'evidenza e dimostrarle e condividerle con noi. Prima però della certificazione andiamo a vedere quali sono gli step da seguire. Ecco, questo mio collega invece sta ora raccogliendo le evidenze dei suoi risultati. Quindi, come vedete, sta facendo delle fotografie che verranno utilizzate per popolare il documento in cui ci saranno le prove dei risultati acquisiti. Naturalmente, prima di riuscire a raggiungere i propri obiettivi, è necessario pianificare un buon action plan, cosa che sta facendo questo anno il mio collega. Come vedete, lui sta definendo i suoi obiettivi e le azioni da implementare per raggiungerli, che è un momento altrettanto importante. Ed ora arriviamo al momento in cui tu sei ora, ovvero quello che sta facendo la mia collega. Il momento iniziale, cioè sta scaricando un documento che ti accompagnerà a step by step per tutte le fasi del percorso, il diario di bordo, che andrà ad implementare tutti i suoi risultati. Saluto a questo punto la collega che ha raggiunto la certificazione. Congratulazioni, ti ringrazio per avervi seguito in questo viaggio e buona formazione. Grazie. 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 Grazie.